ciao mi chiamo tiffany ho 21 anni e no per quanto lo possa sembrare non è l'intro di una serie tv per ragazzini sono una giovane donna che appena realizzato il percorso a seguire nella propria vita non è stato affatto semplice in seguito a una serie di sfighe e pessime decisioni sono riuscita a scoprire il mio nuovo obiettivo nella vita no non so qui ad annoiarvi su quali essi siano so che non interessano a nessuno alla nostra età bisogna cercare se stessi ci siamo ritrovati tutti in una fase dove sembra che nessuno ti capisca nemmeno te stessa riesce a seguire il veloce flusso dei tuoi pensieri tutta la strada potrà sembrare in salita senza nessuno accanto che ti possa dare una mano quando non è più bisogno vediamo come molti ragazzi vivono tranquilli spensierati mentre noi non facciamo altro che chiuderci noi stessi ed è proprio quest'ultima cosa che dobbiamo cambiare dobbiamo accettare il fatto che abbiamo bisogno di quel qualcuno su cui contare questa persona può essere davvero chiunque dalla tua famiglia al tuo migliore amico oppure semplicemente la tua ragazzo il tuo ragazzo non fare in modo che le difficoltà della vita cadano solo addosso a te stesso cerca quella persona con cui può dividere il dolore ma anche le gioie che la vita ti può portare non è molto lo so ma è già un passo avanti in più per vivere sereni e comunque ricorda prenditi il tuo tempo perché abbiamo ancora tutta la vita davanti e quindi Grazie a tutti.